Siamo qui alla sesta giornata del campionato di futsal di serie C Si affrontano al palazzetto di Nettuno la squadra di casa, la Lele Nettuno che sta occupando la seconda posizione della classifica contro lo Sporting Terra Cina Penultima in classifica Ultimi controlli, tutto pronto Si può iniziare De Petres, palla dentro, la recupera Mastroianni, Ceci, solo, rete Subito il vantaggio della Lele Nettuno al secondo minuto con Mastroianni Punta Ceci, palla dentro, vicino al raddoppio la Lele Nettuno Ceci, punta l'uomo, tiro Un'altra occasione da gol per la Lele Nettuno con Ceci Frattarelli Palla dentro per Campoli, troppo lunga, la tiene con tranquillità lo grasso che serve Mastroianni Ceci, punta l'uomo Tedesco Campoli, punta Mastroianni È chiuso però, ricomincia Frattarelli Ceci, punta Frattarelli Chiude molto bene Aveva servito precedentemente male Di Manno De Petres Mastroianni Ancora De Petres Origlia Sempre il giropalla difensivo da parte della Lele Nettuno Ceci, preva il tiro Rimpalla Frattarelli Ancora rimessa in zona offensiva per la squadra di casa Controfallo però Errore nella battuta da parte di Del numero 10 Ceci Rimesso da tirare per lo Sporting Terra Cina Frattarelli Caringi Ancora Caringi Allarga Campoli Punta Origlia Ancora Campoli Tiene Origlia Campoli Ottimo l'intervento da parte di Ceci 3 contro 2 De Petres Palla dentro Chiude in maniera ottimale il numero 9 Caringi Tedesco Punta Tiro Ottimo lo grasso A non farsi beffare Sull'ottima giocata da parte del numero 9 Caringi Mastroianni De Petres Tiro Non arriva Ceci Ottima l'azione personale da parte di De Petres Origlia Con tranquillità per De Petres Nuovamente giropalla difensivo della Lele Nettuno Origlia De Petres Palla dentro Ottima la giocata da parte di Mastroianni Che porta sul 2 a 0 La Lele Nettuno Ancora Caringi Che scambia con Frattarelli Può andare dentro La recupera De Franceschi Che punta l'uomo Palla dentro È tutto solo Poco convinto Mannucci Vicino al 3 a 0 La Lele Nettuno Finta Frattarelli Palla dentro Ennesimo calcio d'angolo per la Lele Nettuno Scarpetti Ricomincia dietro De Franceschi Tiro Si va a trovare Pronto Tedesco Un'altra occasione per la squadra di casa Campoli Punta bene Mannucci Dentro e mezzo al campo Campoli La gira per Peppe Tiro Ottimo l'intervento da parte di Lograsso Però è viva Fisca l'arbitro Scarpetti per De Petris De Carolis Punta Frattarelli Va De Carolis Palla dentro Salva sulla linea Peppe Vicino al gol di Franceschi Finta sempre da parte di Peppe Campoli Tiro Lograsso Ancora Campoli Rimpallo Lograsso C'è De Petris Esce molto bene La Lele Nettuno Scarpetti Palla dentro Punizione Fallo di mano da parte di Leonardo Fisca l'arbitro De Petris Tiro Rete 3-0 Della Lele Nettuno Con il gol Da parte di De Petris Tutto pronto Fisca l'arbitro Campoli contro Lograsso Tiro Lograsso Attentissimo Fisca Ruchetti Campoli Tiro Rete Non la tiene Lograsso Riapre la partita dello sport interacina Alle battute finali Del primo tempo Con Il numero 10 Campoli Ancora Ceci Palla dentro Chiude molto bene Ancora Ceci Numero Numero da parte di Ceci Che è giocato Da parte del numero 10 Della Lele Nettuno Serve con tranquillità De Petris De Petris Punta Campoli Entra in mezzo al campo De Petris Molto bene Tedesco Mastroianni Ancora per Origlia Tiro Traversa L'ha toccata Però Tedesco Origlia È solo Tiro Tedesco Si va a trovare pronto Sul punto di battuta Il numero 10 Ceci Che ben porta Tedesco Molto bene Mannucci Origlia Ancora Tiro Rete Gol di Ceci Giocata geniale Da parte del numero 10 Della Lele Nettuno Che porta Su 4 a 1 La sua squadra Peppe Palla dentro Da Ceci Che sta per andare a tirare Ceci Tiro Ottimo l'intervento Da parte di Tedesco Mastroianni Per Ceci Che si gira E va da solo Va Scarpetti Contro Tedesco Scarpetti E poi Rete Del Principe Si fa a trovare Pronto e ribattuta E porta sul punteggio Di 5 a 1 La partita Carinci Tiro Rete L'Ele Nettuno 5 Sport intera Cina 2 A 8 minuti Dalla fine Il punteggio È di 5 a 2 Mannucci Del Principe Mastroianni Ancora del Principe Bella l'imbucata Dentro Mastroianni Ottimo De Karoliss Slalom Tiro Rete Bellissimo Gol da parte Di De Karoliss Che porta il punteggio Su 6 a 2 E finisce qui La partita L'Ele Nettuno Batte Sport intera Cina Per 6 a 2 L'Ele Nettuno L'Ele Nettuno L'Ele Nettuno L'Ele Nettuno